Ci sono diverse cause per cui un motore può consumare olio, la più diffusa è sicuramente l'usura del motore stesso, in questi casi è estremamente utile utilizzare additivi microparticellari come il LiquiMoli Ceratec o il Sintoflon Protect Oil Seal in quanto sono riempitivi delle parti usurate del motore per cui ristabiliscono un'ottimale compressione con conseguente abbattimento del consumo di olio, se invece il consumo di olio dipende dalla secchezza delle guarnizioni del circuito occorre rivitalizzarle tramite additivi specifici diciamo ammorbidenti come ad esempio il LiquiMoli ProLine Oil Verlust Stop o l'additivo RX4073, ammorbidendo le guarnizioni ne ripristinano l'ottimale tenuta con conseguente abbassamento del consumo di olio, trovate questi additivi nel nostro store online autogold.it e in negozio qui a Rieti di una musica con il nostro corso gratuito e in negozio del mondo i nostri mapponi